Vangelo di Marco E disse loro Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedetta alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro, e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano.